Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Cosa ci dice questa parola oggi, quarta domenica ed ultima di Avvento? Le letture tutte rinviano a Maria, la Madre di Gesù, che lo ha a noi donato per mezzo dello Spirito, che l'ha resa quindi feconda tanto da dare al mondo il Figlio dell'amore del Padre. Quale insegnamento ne viene per noi? Se ben meditiamo, siamo sollecitati a fare spazio dentro di noi, perché lo Spirito possa generare in noi lo stesso amore del Padre che ci fa Suoi figli, ma allo stesso tempo Suoi discepoli. Spazio significa mettere a tacere talvolta pensieri, pregiudizi, risentimenti, per far generare in noi libertà, gratuità, amore incondizionato. Lo stesso Gesù ci ha promesso il Suo Spirito, per cui a tempo opportuno ci donerà le Sue parole per essere in mezzo ai fratelli, nelle nostre case e nelle nostre famiglie, quel segno del Suo amore, della Sua tenerezza, disponibilità, amabilità, comprensione. Buona domenica.